Buongiorno a tutti e ben riusciti sul canale della siega di Titapoa in cui vi faccio vedere una roba nuova che appena riuscita questa è la perlina dell'entico spaccato asciato ed è spesso la 2,3 sk la lunghezza è di 4 metri e la larghezza è addirittura larga 38 sk sono le ha le invece ma avete le nuove trattori antico se avete qualche domanda potete scrivere qui sotto vi saluto sani e adulti